partiamo un tuo difetto prima di iniziare il percorso mentre un pregio che hai acquisito in sala mi sento molto meglio spontanea mi sento il mio corpo che si muove in modo diverso mi vedo ballare in modo diverso adesso sono molto più consapevole sia della tecnica del passo in sé ma anche una cosa che ho pensato molto è il sapere la cultura che c'è dietro cosa ti ha lasciato il percorso plus mi ha lasciato assolutamente un bel ricordo molta voglia di continuare a ballare e a scoprire cose nuove tante emozioni un pensiero di me stessa diverso dici la classe che ha trovato più stimolante e infine consiglieresti il class una volta terminato il tuo primo anno sì perché possiamo fare molti più discipline tantissimo e sì assolutamente non si viene